Un'opera eterna tra promesse e abbandono, dove ci porterà la trasversale delle serre? E' passato mezzo secolo da quando si è iniziato a parlare della trasversale delle serre, una strada che avrebbe dovuto rappresentare una svolta per il comprensorio, eppure oggi, dopo quasi 60 anni, di quella strada si vede poco più di un'eterna incompiuta. E' l'incipit di una lettera aperta di un gruppo di cittadini del Soveratese che si chiedono dove ci porterà oggi questa strada? Tra promesse mancate e spropri annunciati e tracciati che cambiano continuamente, il progetto sembra essere diventato un simbolo del declino di un territorio che si spopola giorno dopo giorno. Continua il comunicato, una strada che avrebbe potuto favorire lo sviluppo quando ancora i paesi erano vivi e popolati. Oggi sembra quasi una beffa in un deserto demografico. I cittadini si interrogano sulle reali necessità di un'infrastruttura che pur restando utile deve rispondere alle esigenze di un territorio ormai mutato. La speranza è che prima o poi si possa aprire un dibattito serio e concreto sul futuro della trasversale delle serre e del comprensorio che dovrebbe servire. La politica dov'è?